GF VIP, Mariana Rodriguez è diventata mamma, un forte, pieno di dolore ma anche d'amore. Mariana Rodriguez è diventata mamma. Nota al grande pubblico anche come modella, attrice e influencer, in Italia abbiamo avuto modo di conoscerla bene durante la primissima edizione del Grande Fratello VIP, dove è arrivata addirittura in semifinale. La modella venezuelana era già molto conosciuta nel suo paese, nel nostro paese invece è diventata famosa per appunto aver partecipato alle reality show più spiato d'Italia ma anche per le sue storie d'amore. Una fra tutte quella con Simone Susin, durata per ben due anni dal 2017 al 2019. Dopo si è solo vociferato di presunti flirt anche con Stefano De Martino ma nulla di confermato. A dicembre dell'anno scorso Mariana ha però sorpreso tutti i suoi fan annunciando di essere in attesa del suo primo figlio. Ed è dei giorni scorsi la lietta notizia che il piccolo Noa Maria è venuto al mondo. A comunicarlo è stata la stessa mamma attraverso un post su Instagram. Il papà del bambino è Gian Maria Coccoluto, di 29 anni che di professione è un famoso kit surf italiano nato a Terracina in provincia di Latina. Ed è proprio lui che vanta il primato in Italia a detenere la coppa del mondo kit A Mariana Rodriguez e al neopapà dunque, noi dice a chi e facciamo i nostri migliori auguri per la nascita del piccolo Noa Maria.